Riqualificazione dell'area siderurgica di Bagnoli e dell'intero quartiere. Sul tema si è tenuto un incontro organizzato da SPI CGL, FNP Bagnoli, CISL, Pensionati, Will Pensionati, Bagnoli e Hauser nella sede dello SPI. Durante l'iniziativa è stato annunciato il percorso individuato per preservare la memoria dei luoghi e di conseguenza per il rilancio dell'area. Tema che sta a cuore una parte della città che può divenire volano per una crescita economica e culturale importante. All'appello hanno aderito anche i docenti universitari, Silvio De Maio e Augusto Vitale, il Circolo ILVA, l'associazione mai più amianto e l'Istituto Campano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Grazie allo studio dei documenti che in questi ultimi 30 anni hanno caratterizzato l'evoluzione della zona si cerca di definire un progetto complessivo. Il segretario regionale dello SPI CGL, Franco Tavella. Il ruolo del sindacato è quello che abbiamo stabilito all'origine con Di Vittorio, difendere i più deboli, difendere le persone e rappresentare le persone in difficoltà e traguardare dentro un interesse generale lo sviluppo del Paese in una condizione di uguaglianza e di pari opportunità per tutti. Oggi stiamo discutendo in particolare del futuro di Bagnoli che è una vicenda oramai decennale in un'area che ha grandissime e straordinarie potenzialità, in un'area che può trasformare la sua vocazione storica che era quella industriale come tutti conosciamo in una nuova occasione di sviluppo. Questo lo si può fare in sintonia con le istituzioni e questo lo si può fare perché finalmente ci sono le risorse necessarie, quali ad esempio i fondi del PNRR. All'incontro hanno preso parte Taglialti Maria Galeano, presidente Hauser SPI CGL e Salvatore Sannino, responsabile Lega Napoli Ovest. Al termine dei lavori è stato lanciato un appello al sindaco di Napoli, Gatano Manfredi, nella qualità di commissario di governo perché si recupera in fretta il tempo perduto.